Il ministro dell'interno Matteo Salvini sarà oggi a Pesaro per l'incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, convocato dal prefetto. Sarò a Pesaro alle 11.30 a presiedere in prefettura un Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, perché se c'è puzza di mafia, se c'è puzza di indrangheta, se c'è puzza di camorra, se qualcuno muore per colpi di pistola in pieno centro in una città tranquilla come Pesaro, è mio dovere esserci subito, quindi domani con prefetto, questore, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ad analizzare la situazione a Pesaro e nelle Marche, perché se qualche mafioso rialza la testa, giù mazzate, perché ripeto, mafia, camorra e indrangheta sono merda e fino a che farò il ministro degli interni e mi occuperò di pubblica sicurezza in questo Paese, li inseguirò via per via, quartiere per quartiere, città per città, palazzo per palazzo, ma non a chiacchiere, arrestando e sequestrando, non io direttamente, ma mettendo le forze dell'ordine, dotandole di più soldi, più uomini e più mezzi in condizione di sequestrare, arrestare, confiscare, combattere la mafia da nord a sud. Polemiche intorno a Matteo Salvini ed un suo post caricato nella mattinata di Santo Stefano, pane e nutella in mano per informare fan e follower, ma nel giorno in cui la Sicilia ha tremato per il terremoto. Il mio Santo Stefano inizia con pane e nutella ed il vostro, si è domandato il ministro dell'interno, immediate le repliche social. A Catania nella notte c'è stata una forte scossa di terremoto con danni a case edifici, chiediamo il supporto dello Stato. Terremoto alle 3.30, bel Santo Stefano e ancora, il mio Santo Stefano inizia con scosse di terremoto e tanta paura. Le polemiche intorno a questo post di Salvini. Le parole di Papa Francesco durante l'Angelus di Santo Stefano. Siamo chiamati ad imparare da Lui a perdonare, perdonare sempre. E non è facile farlo, tutti lo sappiamo. Il perdono allarga il cuore, genera condivisione, dona serenità e pace. Il protomartire Stefano ci indica la strada da percorrere nelle relazioni interpersonali in famiglia, nei luoghi di scuola, nei luoghi di lavoro, in parocchia e nelle diverse comunità. Sorride l'industria del turismo per le visite registrate durante queste vacanze natalizie. Tra Natale e Capodanno, secondo l'indagine realizzata dal Centro Studi Turistici per Confesercenti Nazionale su un campione di 1.613 imprenditori ricettivi, le presenze di turisti esteri saranno circa 6,3 milioni, in crescita quest'anno, soprattutto nelle località montane, più 0,8%. Record soprattutto per le città d'arte, con Milano tra le mete più gettonate. Da segnalare l'aumento dei turisti in arrivo dalla Svizzera, dall'area del Medio Oriente e da Australia e Nuova Zelanda. Un'Italia attraente non soltanto per il mare e il sole d'estate.